Buongiorno a tutti, buongiorno! Oggi ho deciso di andare a fare una passeggiata con Kali a un posto che si chiama la Cule de la Tortugas che si trova a 15 minuti da Picassent nella comunità valenziana e quindi veniti con me! Guarda che bellezza! Kali! Andiamo! Guarda come si concia! Noi tutte le volte che usciamo di casa dobbiamo tornare a casa a fare il bagnetto! Guardatela! Lei conosce la strada! Lei che mi porta con sé! Vedete questi due segni? Sono per il percorso! Io mi sono venuta tante volte e vedete le rane! Vedete le rane! Caruzzo! Caruzzo! è stra pieno di rane quantità pazzesca guarda che teneri che teneri soppongo che sono rane o dei pisciolini no? mi sembrano rane arriva a distruggere il tutto cali sentite che bella natura mi sono svegliata e sono uscita e ho lasciato la casa un disastro quando torno vedremo sono arrivata e c'erano c'erano due pullman di ragazzini di scuola all'inizio del percorso non so se li fanno fare tutto il percorso non so sono scappata a gambe elevate perché io li grido dei bambini non ce la faccio e guarda che c'è un coniglio guardate che c'è un coniglio là non so se l'avete visto è passato l'ho visto è proprio l'ho visto passare qua più che colonna è una lebre non so se riusciamo a trovarla che silenzio non so se riusciamo a trovarla non so se riusciamo a trovarla Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' impressionante, Kali. Scendi, scendi, mami. Cosa c'è là? Guardate cosa c'è là. Un scogliattolo. Guardate cosa c'è là. Guardate cosa c'è là. Que delizio. Guardate cosa c'è là. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.